Benvenuti a chi è online, chi sta seguendo, dal gruppo CARS con il presidente Giovanni Di Nardo e dal gruppo Calipè con il presidente Fedele Messina. Questo è il terzo appuntamento, quindi abbiamo avuto prima Marcos Goldoni due venerdì fa, venerdì scorso con Gianluca Selleri e stasera con il carissimo socio del CARS, geologo, speleologo, geomorfologo, Mario Parise. Mario si è laureato all'Università di Napoli, giusto? Giusto. In scienze geologiche, con l'ode, da quello che reggo dal tuo curriculum. Che ti ha trovato? Eh, l'ho trovato il curriculum. È facile da trovare, ma è con l'ode, giusto? Tu sei stato ricercatore del CNR, ricercatore dell'IRPI, e poi dal 2016 come professore associato alle geologie applicate all'Università di Bari. Stavo leggendo che hai collaborato, realizzato più di 200 pubblicazioni nazionali e internazionali. Noi le leggiamo tutte. Ah no? No, tu mi hai detto che eri stanco, eh? Però ho qui l'oggetto e le voglio leggere, sono dieci punti. Quindi, analisi della franosità del territorio in varie aree di studio in Italia e all'estero, relazioni tra frane e terremoti, interpretazione geomorfologica di fotografie aeree, analisi di territori carsici, speleogenesi ed evoluzione carsica, carsismo in rocce evaporitiche, idrogeologia carsica, salvaguardia dei beni culturali ed archeologici in aree interessate da pericoli naturali, evoluzione costiera in aree carsiche, esplorazione e rilievo di antichi acquedotti sotterranei, pericolosità da frane e cinematismo rapido, e cartografia di simcose e loro relazioni con assetto strutturale. Per avere una potenza con tante queste pubblicazioni e averlo come social cars, noi siamo onorati Mario, non te l'abbiamo mai detto prima, forse non te l'abbiamo mai dimostrato, però è la pura realtà. È la pura realtà. Due, anche se stanno parecchi all'estero, giusto? Negli Stati Uniti, Cuba, per esplorazioni o anche indagini geologiche? Ci sono stato spesso per lavoro, ho avuto la fortuna all'inizio della mia carriera di lavorare negli Stati Uniti, in particolare con alcune persone che sono quelli che hanno scritto la classifica delle frane e ancora oggi utilizzata in tutto il mondo, quindi veramente sono stato fortunatissimo a conoscere Dave Varns e i suoi collaboratori. E poi, in varie occasioni, per fortuna, io faccio un lavoro bellissimo, sono un grande privilegiato, e come quelli che fanno il mio stesso lavoro, lo può confermare l'amico io, per cui andiamo spesso fuori, abbiamo possibilità anche, grazie alle drotte, di fare esplorazioni come quelle a Cuba, in Albania, in altri posti. Quindi, da questo punto di vista, è veramente una fortuna fare il lavoro che facciamo noi. Quindi, io ti ho girato nel primo pomeriggio una serie di domande, così per ammortizzare i tempi. Tu, da bravo professore quale sei, hai già fatto il lavoro, nonostante oggi ci hai raccontato che hai avuto una giornata impegnatissima, però hai trovato tempo per noi da apprezzare. No, assolutamente. Tu dicevi l'onore di far parte del CARS, io lo sento molto. Come tu sai, perché mi conosci da un po' di tempo, io ho iniziato a fare attività speleologica a Castellana, però poi, per un lungo periodo, per parecchi anni, era un po' uno di quelli che si definiscono cane sciolto, perché non mi ritrovavo troppo nell'atmosfera, nelle regole del gruppo. Troppo spesso il gruppo veniva visto come un qualcosa di chiuso, che solo apparentemente si apriva agli altri. Spesso e volentieri si apriva a qualcuno, ma non ad altri. E questa cosa mi stava molto stretta, per cui ho preferito per parecchi anni continuare a fare la mia tessera SSI, però non far parte di gruppi. E poi sono rientrato con il CARS. Attualmente ho anche un'altra tessera per motivi affettivi e di amicizia al CAI di Napoli. Ah vabbè, sono le mie origini, poi sono legato da profonda amicizia a Umberto, Umberto del Vecchio. Per questo motivo ho due tessere, ma conta poco, perché quello che per me è più importante in ambito speleologico è collaborare. Tu dicevi, parlavi di curriculum, che è una cosa abbastanza noiosa, diciamo, quando qualcuno ha la fortuna, ripeto, di fare il nostro mestiere, è ovvio che accumula esperienze, pubblicazioni, che confrontate rispetto allo speleo, tra virgolette, normale, sembrano una cosa enorme. In realtà è solo il nostro lavoro. Ognuno di noi può essere bravo in quello che fa. Il mio lavoro è fare lezione, è scrivere, fare pubblicazioni. Ma io devo dire che buona parte delle cose che so, delle grotte, le ho imparate da chi non ha titoli accademici, per così dire. Il mio lavoro è geologo, non è considerato dal punto di vista delle pubblicazioni, ma aveva l'esperienza diretta. Ed è di quello soprattutto che questa sera vorrei un attimo parlare, perché, come dicevi, tu mi hai passato un po' di domande che, devo dire, già quelle che mi hai passato coprono un arco di argomenti, di tematiche, per cui potremmo parlare giornate intere. Arrivavano di continuo, Mario, poi erano molti vocali, quindi te le ho tirate così come erano arrivati. Hai fatto bene. Però devo dire innanzitutto che ad alcune risponderò, a tutte quelle che riguardano in particolare i discorsi su speleotemi, su concrezionamento, darò qualche indicazione se volete, però invito chi le ha fatte, o chi siano quelli che le hanno fatte, ma va bene uguale, invito a stare con noi venerdì prossimo, quando ci sarà Paolo Forti, che molto meglio di me potrà spiegare, anche con la sua classica verve, tutti quei processi di concrezionamento. Allora, quindi, io ho messo su un PowerPoint con un po' di immagini per parlare. Ditemi voi se preferite che lo lanci o se vogliamo... Sì, sì, vai. No, no, puoi lanciare. No, vai, vai. Se così faccio... Lo vedete? Sì. Innanzitutto questa è la locandina che avete fatto tu e Irene, soprattutto, che ringrazio. Bravissima Irene, no? È una socia Cars appena acquisita, ma una disponibile... Tutte le locandine, eh? Sì, sì. Da un punto di vista grafico molto abile. Io ho solo fornito la fotografia, che tra l'altro, lo voglio dire, di Maria Rosaria Marchetti, e l'ha fatta durante una delle nostre puntate a Vorabosco. Quando abbiamo ragionato su questa serata e su di cosa parlare, io ho proposto questo tema, come leggere le grotte, e in realtà mi è venuto in mente proprio a partire dal primo incontro che abbiamo avuto con Max, con Max Goldoni, perché praticamente abbiamo... abbiamo, cioè, lì Max ci ha letto dei testi, letto e interpretato, aggiungo io, dei testi che riguardavano il mondo sotterraneo, le grotte in generale. Ci sta ascoltando, Max, tu vuoi solo dire... Ah, ok. ...si online con noi. Lo saluto. Stasera, invece, è una lettura diversa, se vogliamo, perché di una cosa mi sono reso conto da quasi subito quando ho cominciato a frequentare le grotte è che molti speleologi vanno in grotta, entrano, ma poi tendono ad andare avanti, guardandosi poco intorno, spesso e volentieri passando attraverso dei luoghi e dei punti magnifici di particolare interesse senza veramente vederli. Alla fine in molti pensano a quanti metri ho fatto, quanto sono andato giù, quanti metri profonda la grotta più profonda che abbia fatto. Sì, dal punto di vista, diciamo, anche sportivo può avere un senso, però io credo che sia anche bello, utile, per chiunque va in grotta e si approccia a questo mondo, avere delle nozioni minime in più per potersi guardare meglio intorno e per capire come si sono formati quei luoghi, quali sono i processi che li hanno plasmati, modellati e che cosa ha reso possibile il fatto che io oggi mi trovi lì, in quel momento, nella grotta che stiamo visitando, che stiamo esplorando, su cui stiamo prendendo gatti. ecco, aggiungere qualcosa di più alla conoscenza, che non vuol dire essenzialmente diventare un geologo o ragionare in termini geologici e perdere la bellezza dello stare in grotta, ma vuol dire invece, almeno a mio avviso, aggiungere un elemento in più di conoscenza, una conoscenza che spesso molti speleologi hanno, ma che difficilmente sanno raccontare, perché magari gli sfugge qualche elemento. E allora proviamo a aggiungere qualche elemento di conoscenza a questa situazione, a questi racconti. A cominciare dall'acqua, no? L'acqua da sempre è stata l'elemento fondamentale del paesaggio carsico, tanto che praticamente ovviamente li riteneva nelle prime teorie, ma prime intendo fino a non tantissimi anni fa, che tutte le grotte venissero formate in questa maniera. L'acqua entra in un punto, comincia ad avere un percorso sotterraneo, tutti pensiamo al timavo classico, no? E poi fuoriesce in una sorgente. Questo famoso fiume sotterraneo dovrebbe essere quello che forma tutte le grotte. in realtà c'è in alcuni casi, questa è una bella immagine di Matej Blatnik dalla Slovenia, che tra l'altro abbiamo scelto e utilizzato per un volume pubblicato un paio d'anni fa della Geological Society of London, ma non sempre c'è questo fiume sotterraneo. Chi era a Casola un paio d'anni fa, se ricordo bene, probabilmente ha ascoltato anche la lezione che ha tenuto io in quell'occasione in cui parlava proprio di questo, del fatto che ci sono varie teorie ormai riconosciute relative alla formazione delle grotte. Non sempre c'è il fiume, anzi, spesso e volentieri è fuorviante pensare alla presenza del fiume nel formare una grotta. però è così, il paesaggio carsico è essenzialmente caratterizzato da questa caratteristica fondamentale, l'assenza di acqua in superficie e l'acqua che si infilca, entra giù nel sottosuolo e qua veniamo già a uno degli argomenti di una delle domande. Mi chiedevano la differenza tra freatico e vadoso. Chiaramente io oggi toccherò degli argomenti che alla grande maggioranza di voi probabilmente sono già noti, però ovviamente ci sono delle domande e è giusto anche dare soddisfazione a chi ha avuto l'interesse e la pazienza di proporle. L'ambiente vadoso è quello in cui i vuoti sono occupati da aria e l'acqua ci passa attraverso, penetrando dalla superficie, attraverso le doline, iponorri, gli inghiottitoi e sotto l'azione della gravità passa in questo ambiente, nell'ambiente vadoso, fino a raggiungere la zona freatica che invece è il saturo, cioè tutto allagato, tutto occupato da acqua. La cosa fondamentale da tenere a mente è che questo sistema è un sistema assolutamente dinamico, non è statico, per cui il livello, la separazione tra vadoso e freatico si muove, si muove in funzione della ricarica, di quanta acqua arriva, di quanta pioggia arriva, più piove, più il livello della falda, il livello freatico si innalza, in periodi di magra invece si abbassa. E noi che andiamo in grotta, questo personaggio qui, questo speleologo, dove si può muovere? Si muove chiaramente negli ambienti dove c'è aria, dove riusciamo anche con l'aiuto delle corde a muoverci, a camminare, a guardarci intorno. Una volta che raggiungiamo l'acqua e a quel punto lo spazio è destinato soltanto agli speleosub, noi possiamo semplicemente, semplicemente si fa per dire, con grande fatica dare una mano a portare giù attrezzature, a organizzare l'immersione, ma poi è lo speleosub che si immerge. Ma, ripeto, la dinamicità di questo sistema e lo spostamento della falda a varie altezze è fondamentale anche per capire la storia carsica dei luoghi. Un'altra domanda riguardava il processo chimico alla base del carsismo e questa è un po' l'equazione principale quella in cui ritroviamo gli elementi essenziali la roccia rappresentata dal carbonato di calcio l'acqua il gas anidride carbonica che rende acidula l'acqua e consente la trasformazione in modo tale che questa reazione determini la dissoluzione della roccia calcare in questo caso ma in realtà come ci mostra la doppia freccia la reversibilità questo è anche all'origine della deposizione da acque sovrasature quando il carbonato di calcio si rideposita andando a formare quell'insieme di decorazioni concrezioni speleotemi che possiamo osservare in grotta e che quasi sempre sono un po' il motivo principale per cui si aprono alcune grotte turistiche che i visitatori si affacciano a questo mondo la domanda sul freatico vadoso era anche legata a che tipo di forme ci danno e allora se immaginiamo che in ambiente freatico dove l'ambiente è completamente saturo l'acqua riempie tutti i vuoti e spesso e volentieri si trova in condotti di dimensione variabile ad agire in pressione la forma classica che si determina è quella circolare perché l'acqua esercita la stessa dissoluzione la stessa capacità di dissoluzione in tutte le direzioni se però la roccia è omogenea al momento in cui ho delle differenze all'interno dell'ammasso roccioso non è solo calcare ci sono intercalazioni come ad esempio qui vedete in questo nella lettera di abbiamo alternanza di calcari che è il classico mattonato e marne le marne sono una roccia diciamo metà calcare metà argilla sono più meno resistenti del calcare e in quei livelli si può sviluppare maggiormente l'azione congiunta di dissoluzione ed erosione per cui vengono fuori queste sporgenze maggiori rispetto alla circolarità classica o possiamo avere dei noduli di selce anche allineati che sono più resistenti e quindi sporgono rispetto all'andamento della galleria freatica o delle fratture delle faglie che la condizionano in maniera significativa tutti questi elementi li possiamo osservare in grotta perché ci consentono appunto di vedere come si presenta oggi una sezione della nostra grotta che stiamo attraversando questo era un altro oggetto di domanda la questione dei rilievi ecco fare un rilievo è un'operazione molto importante non soltanto per chi magari non vedrà mai la grotta fisicamente perché non ci si reca ma anche per comprendere molte cose ma è importante abbinare alla poligonale classica quella principale che segue lo sviluppo della grotta una serie di sezioni che servono proprio a vedere la forma che in vari punti la grotta assume qui abbiamo un accenno di galleria freatica ma vedete c'è una netta linea qui che indica evidentemente una superficie di strato e potrebbero esserci molte situazioni di questo tipo ne vedete altre in queste immagini molte immagini le conoscerete perché sono anche tratte da alcune delle tante lezioni che furono fatte con quel bel progetto powerpoint della ssi quando la ssi si preoccupava anche di educare dal punto di vista culturale un po' dei soci e spesso poi osserviamo non la singola forma bensì qualcosa di misto qualcosa che prima era freatico e poi è diventato vadoso il che da un lato ci dà un'idea sulla storia di quella grotta ma dall'altro ci rende anche un po' più difficile la comprensione delle fasi che si sono succedute nel tempo e possiamo avere situazioni diverse come le classiche tipo a buco di serratura che molti di voi hanno incontrato in tante grotte in cui ci siamo mossi a questo proposito vi faccio un giochetto un giochetto insomma un esempio che spesso faccio vedere agli studenti qui siamo a Molfetta giusto in onore di Calipè e sulle pareti del pulo di Molfetta ci sono degli splendidi esempi di galleria freatica circolare perfetta molto chiara molto indisturbata qui c'è il martello da geologo che dà un'idea della scala e guardate invece questa situazione qui come si presenta come possiamo immaginare la storia di questa di questa cavità una prima fase freatica vi dicevo acqua esercita lo stesso carico in tutte le direzioni la galleria ideale circolare ma poi bisogna tener conto dell'assetto geologico locale qui abbiamo un ammasso stratificato li vedete i giunti di strato che separano uno strato dall'altro e nella seconda fase c'è un ampliamento laterale lungo i giunti di stratificazione che determina questo allargamento su entrambi i lati dopodiché a questa altezza ovviamente il livello freatico doveva essere grossomodo in questa zona ma poi si approfondisce per qualche motivo per un innalzamento della zona per un abbassamento della falda e questo determina la terza fase l'approfondamento vadoso l'approfondimento vadoso che in genere avviene lungo le fratture discontinuità secondarie e nell'insieme abbiamo una forma tipo buco di serratura che vi mostravo prima nello schema e questo vale un po' per tutte le situazioni che incontriamo in grotta possiamo provare a spiegarcele in questa maniera ragionando anche i pozzi qui abbiamo due pozzi molto differenti questo a sinistra è lineare evidentemente si trova lungo una linea di frattura di debolezza dell'ammasso roccioso e ha una continuità laterale notevole quest'altro invece è più puntuale cioè è un punto come se fosse in superficie un inghiottitoio il punto in cui si concentra l'acqua discioglie lì e nell'immediato dintorno senza spostarsi molto lateralmente e approfondisce rapidamente ma allo stesso tempo in pozzi possiamo vedere altri elementi guardate questa immagine abbiamo ad esempio qui una linea che va verso destra in questa direzione e qui invece in quest'altra direzione evidentemente c'è stato un movimento tra le due parti del pozzo che in questo caso ha determinato una morfologia che non è proprio quella circolare ma un po' deviata un po' spostata a causa di elementi strutturali tettonici e con questo provo anche a rispondere a un'altra delle tante domande che Antonio mi ha passato vale a dire della relazione tra quella che è la tettonica cioè la deformazione fragile che interessa molti ammassi rocciosi carbonatici nelle nostre aree delle nostre grotte e lo sviluppo delle cavità carsiche sto parlando assai no 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 se ci sono domande sono contento di provare a rispondere e poi magari riprendere o ditemi voi come preferite intanto mi faccio un sorso di vino saluto Mario vai Marco avrei avrei degli altri quesiti da porti diciamo che sono l'autore di molte delle domande che ti sono arrivate mi preoccupi con quel blocchimento eh sì no no perché l'età avanza l'osteriosclerosi pure quindi non devi dare che cioè avevo tanti quesiti da porti quindi di conseguenza me li sono annotati altrimenti mi sarei dimenticato qualcuno sono due giorni che fa domande Mario lo dovevi dire non te le ho mandate tutte qualcuna l'ho saltata cioè se tu è giusto ok dai dai hai partito dicendo proprio dall'inizio le prime parole che hai detto che l'acqua entra in un determinato punto per poi iniziare il suo percorso e formare quindi le grotte io mi chiedevo ma è casuale la scelta di questo punto oppure ci sono delle condizioni particolari che permettono all'acqua di penetrare e quindi di conseguenza di formare le grotte adesso ti riconosco sei tu quello che chiedeva del punto zero sì no quello è un mio collega va bene comunque ci stavo arrivando con la presentazione quindi forse è il caso dopo che la riprendiamo e provo a rispondere a questa a questa tua domanda d'accordo qualcun altro in fila oppure riprendo ho delle domande ma non sono cioè te le faccio dopo continuo con l'aspirazione un po' te le faccio e si wish sicuramente sì e si wish ovviamente qualche volta i luoghi sono anche un po' più stretti e qua torniamo alla situazione della locandina questo è il pozzetto di accesso all'ultimo tratto di Lora Bosco che alcuni di voi conoscono qui ci stiamo infilando e qui sto installando la sonda che purtroppo è stata poi distrutta nel corso di un evento di piena ci troviamo in questa zona nell'ultimo tratto della grotta che per chi la conosce o per chi ha visto qualche volta il suo rilievo è l'unica parte gli ultimi 8-10 metri direi sviluppata nel calcare cretaceo nel nostro classico calcare tutto il resto della grotta invece si sviluppa in litologie diverse e di questo torneremo a parlare dopo perché diverse domande riguardavano la paleogeografia la differenza tra le zone carsiche della nostra regione ci torneremo un po' più avanti allora ci sono sono state proposte negli anni varie teorie sull'origine delle grotte e su questo anche ha parlato tanto a Casola ma anche in altre occasioni Iodevaele e questa è una certamente delle più note quella di Ford Ewers risale a un po' di anni fa vedete c'è il livello piezometrico rappresentato da questa linea tratteggiata in celeste e il modello spiega come la grotta può cambiare in funzione di cosa proprio della forte fratturazione dell'ammasso roccioso quanto più la fratturazione è spinta e vi sono molti sistemi di frattura all'interno della roccia tanto più l'andamento finale della grotta si approssima a questo del livello piezometrico se invece nel nostro ammasso roccioso abbiamo pochi sistemi di discontinuità ma importanti uno o due come in questo caso è molto più probabile che si sviluppino sistemi di questo tipo con una serie di loop a salire e a scendere che poi all'aumentare della fratturazione tendono a connettersi in maniera più prossimale al livello piezometrico e creare la situazione di questo tipo all'aumentare della fratturazione ma tutto questo non è così semplice perché poi dobbiamo immaginarlo sempre tenuto conto delle variazioni che il livello piezometrico può avere vi dicevo prima la dinamicità lo spostamento in alto in basso e alla fine la grotta diventa una integrazione degli effetti legati alle caratteristiche dell'ammasso roccioso alla sua fratturazione alla ricarica che vi arriva ma anche alla dinamicità e agli spostamenti del livello piezometrico è importante però vederne il rilievo vi dicevo prima dell'importanza delle sezioni che ci aiutano a vedere dei passaggi all'interno del sistema in cui ci muoviamo ma anche la pianta ci dà molte indicazioni qui abbiamo non so se le riconoscete queste grotte le avete fatte quasi tutte secondo me ce ne sono alcune vedete chiaramente impostate lungo una direzione come questa qui o questa in basso ce ne sono altre con un andamento abbastanza condizionato dalla tettonica in maniera con sistemi di discontinuità perpendicolari già vedere osservare la pianta di un rilievo di una grotta ci dà molte informazioni e in questo e veniamo alla risposta alla domanda di Marco c'è un altro lavoro molto importante di Art Palmer degli anni 90 dove c'è questa tabella che ci fa vedere in base al tipo di ricarica e al tipo di porosità dominante prevalente che situazione possono dare in pianta le grotte e il tipo di ricarica che cosa significa ci si può si può infiltrare l'acqua attraverso delle depressioni carsiche cioè degli inghiottitoi dei sinkhole o dei sinking streams cioè dei fiumi che poi a un certo punto si infilano sotto sottoterra oppure può essere di tipo diffuso che riguarda più materiali a maggiore porosità tipo le arenarie per intenderci anche le nostre calcareniti in questi materiali la differenza è notevole perché ovviamente abbiamo un porosità una permeabilità ben diversa da quella delle rocce calcare che sono dominate dalle fratture dai sistemi di discontinuità in queste situazioni abbiamo quindi degli andamenti molto angolari tipo alcuni di quelli che vi ho mostrato prima ad angolo retto ma in quelle invece più di tipo diffuso possiamo arrivare quando la roccia si comporta assorbendo l'acqua un po' come una spugna ad avere proprio la situazione sponge work cioè con l'acqua che penetra e discioglie in tutte le direzioni una situazione ancora diversa e Art Palmer è stato tra i primi a menzionarla a studiarla a citarla poi di recente approfondita da molti altri in primis da Alexander Klimchuk sono le grotte ipogeniche cioè quelle che si formano con l'acqua saliente che viene dal basso verso l'alto e che risale attraverso generalmente importanti elementi tettonici faglie o fratture lì c'è uno scenario diverso ed è uno scenario diverso soprattutto perché non è detto che vi sia come nel resto del tarsismo una corrispondente forma carsica in superficie poiché le grotte ipogeniche si formano a partire dal basso in superficie possiamo avere anche un paesaggio che non è per nulla carsico e di altro tipo ma lì sotto abbiamo ugualmente importanti sistemi di grotte ecco questo è Art Palmer con sua moglie Margaret che è l'autore tra l'altro di questo volume Cave Geology che è sempre quello che io consiglio a chi mostra curiosità verso il mondo delle grotte e verso l'argomento di come la geologia influenza lo sviluppo delle cavità ecco questa è la Bibbia di riferimento a mio avviso manca ancora un elemento a quanto vi dicevo finora abbiamo parlato del freatico abbiamo parlato del vadoso ma poi in realtà quando noi oggi entriamo in grotta ci troviamo spesso e volentieri a camminare su un pavimento che non è quello reale della grotta ma che è costituito da ammassi di crollo quelli che gli anglosassoni chiamano breakdown deposits e che possono modificare di tanto la nostra visione della grotta perché al momento in cui noi andiamo a fare una sezione chiaramente non vediamo la parte basale della cavità quando questa è coperta da blocchi di grande dimensione che possono occuparla anche per metri in metri c'è quindi la fase di crolli l'evoluzione per gravità che determina molto spesso se non quasi sempre la situazione in grotta su cui noi oggi ci troviamo a passeggiare a camminare a esplorare e questo diagramma secondo me è molto significativo qui abbiamo sulla prima colonna la stratificazione i bedding plans che qui vedete messi orientati di un certo angolo oppure orizzontali mentre qui in basso ci sono le fratture prevalentemente subverticali e con l'aumentare dell'età della grotta andando da sinistra verso destra si passa da una fase freatica con il classico passaggio o galleria circolare o in questo caso ellittica perché è anche controllata dall'aggiunto di stratificazione dove poi si può sviluppare un qualcosa sulla volta poi ne parleremo o un approfondimento alla base poi si passa alla fase vadosa quando il livello freatico si abbassa quindi ciò che prima era in zona freatica si trova in zona vadosa c'è un approfondimento tipo quello che vi ho mostrato prima sulle pareti del pulo di Molfetta con la formazione della serratura del buco di serratura ma tutto questo può essere mascherato dai crolli dai depositi da crollo per cui spesso e volentieri si viene ad alterare completamente la base della nostra situazione della nostra grotta ma anche le pareti e la volta perché i crolli da lì vengono ci sono cioè gli stacchi di materiale dall'alto che mi vanno ad alterare l'originaria morfologia e non è più così semplice così immediato riconoscere la morfologia all'interno della cavità la gravità è quindi molto importante tra l'altro questo è uno degli argomenti principali di cui mi occupo per ricerca in ambito speleologico cioè vedere le morfologie legate ai crolli e alla loro eventuale progressione verso l'alto fino a intaccare la superficie topografica e a produrre i sinkhole di sprofondamenti tipo anche quello che ha aperto la grave delle grotte di Castellana giusto per c'è proprio una domanda che mi hanno fatto se ricollegandomi a quella che hai appena detto se al momento ci sono progetti proprio dell'università di ricerche geologiche in grotte ci sono grotte specifiche in cui siete più focalizzati a fare delle ricerche o variano di volta in volta o ci sono dei progetti ad hoc e allora come sapete purtroppo la ricerca è sempre poi condizionata dalla disponibilità economica la ricerca costa e noi viviamo in un paese che dà poco impulso e poca spinta alla ricerca quindi dobbiamo cercare dei finanziamenti che ci consentano di svolgere attività di ricerca il che non è facile per quanto riguarda me ma poi può intervenire tranquillamente io o qualcun altro se voglio il progetto principale su cui stiamo lavorando da qualche anno e che ora prima del covid avevamo appena rifirmato per una nuova ripresa delle attività è quello legato alle uniche due grotte in regione dove si raggiunge direttamente la falda cioè l'inghiottitoio di masseria rotolo e vorabosco che già vi ho citato in precedenza su quelle c'è un finanziamento per quanto non di grande entità da parte della regione e quello è un progetto attivo un altro progetto attivo riguarda però le cavità artificiali non quelle naturali perché come università di Bari come capofila abbiamo vinto di recente un progetto del ministero dell'ambiente insieme al CNR e all'università Bicocca di Milano e quindi stiamo lavorando anche da quel punto di vista proprio per individuare delle procedure per la mitigazione dei rischi connessi a cavità artificiali che sono quelle che poi hanno una maggiore influenza un maggiore effetto sui nostri centri abitati sul territorio anche se a noi piace di più lo scenario naturale e andare in grotte naturali ma spesso e volentieri le cavità artificiali sono un po' il grimaldello tramite il quale gli enti locali in questo caso vi dicevo il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può finanziare progetti e allora è importante lavorare anche in quella direzione proprio per dare visibilità al sottosuolo al mondo speleologico e magari anche per riuscire a utilizzare parte di quei finanziamenti se si riesce a gestirli in maniera oculata per ricerche un po' più diciamo pure legate al carsismo vero e proprio ma non è semplice tanto ci sarebbe da fare in particolare in relazione all'acqua all'idrogeologia che è un argomento assolutamente trascurato nella nostra regione in merito a finanziamenti parlavo delle zone di debolezza dei crolli non è un caso poi che gran parte delle zone più ampie che troviamo in grotta i saloni più grandi si incontrano esattamente all'incrocio tra sistemi di discontinuità nelle zone di massima debolezza all'inizio Antonio citavamo la spedizione a Cuba la spedizione Santo Tomà che facemmo nel 2003 tra federazione campana e pugliesi all'epoca e questo è proprio il salon del caos non è un caso che abbia questo nome perché l'ambiente più grande all'interno di un sistema che conta 47 se ricordo bene chilometri di lunghezza disposti su vari livelli e l'ambiente più grande appunto il salon del caos è questo qui nella foto di questa credo sia se ricordo bene di Franz di Franz Maugano ma poi ce ne sono tante altre di situazioni dove possiamo osservare i depositi da crollo e quindi capire che questi ci mascherano in qualche maniera come vi dicevo prima l'effettiva morfologia delle cavità all'interno delle quali ci troviamo e qui ho messo qualche diapositiva che è legata ancora una volta al progetto Powerpoint in cui si fa capire come innanzitutto non è solo corrosione non è solo dissoluzione ma l'erosione meccanica i crolli da un lato ma anche l'erosione meccanica ad opera dell'acqua che passa con un flusso turbolento non laminare hanno un ruolo fondamentale nel modellare le nostre grotte e questo dal punto di vista idrogeologico è molto importante perché c'è un mondo diverso tra l'acqua che si muove con una bassa velocità un flusso laminare che per chi capisce un po' di queste cose è regolato dalla legge di Darcy un idrogeologo francese che ha definito il movimento dell'acqua in ambiente appunto laminare e quando però la velocità aumenta e perdiamo questi filetti idrici paralleli gli uni agli altri si entra nel campo del turbolento in cui dobbiamo utilizzare altre equazioni per spiegare il flusso dell'acqua e qui comincia a essere fondamentale anche l'erosione meccanica che anzi agisce in maniera anche e molto più rapida intensa rispetto a quella classica di dissoluzione questo grafico qui ci fa vedere proprio i tempi di possibile formazione delle grotte come la dissoluzione iniziale quando abbiamo dei il codiletto punto zero quando si formano i protocondotti cioè delle parti iniziali all'interno della roccia in cui comincia la dissoluzione e i diametri sono estremamente piccoli la dissoluzione è lenta ma poi quando si supera un certo valore del diametro si impenna l'andamento della curva perché il processo diviene molto più veloce ma quando uso l'aggettivo veloce ragioniamo sempre in tempi geologici vedete la scala degli anni quindi è un qualche cosa di estremamente lento ragioniamo prevalentemente sulla roccia carbonatica i tempi cambiano se ci spostiamo sulle vaporiti cambiano ancora di più in maniera estremamente significativa se ci spostiamo sui sali sulle rocce saline però in ogni caso abbiamo tempi non commisurabili alla vita umana che quindi richiedono dei periodi lunghi per la formazione delle varie fasi di una grotta in tutto questo l'assetto geologico strutturale è fondamentale noi ci troviamo nella regione pugliese in una situazione di questo tipo di roccia poco deformata o non deformata ad andamento stratificato suborizzontale ma ci sono se ci spostiamo nell'appennino se andiamo dall'altro lato verso il tirreno se raggiungiamo gli alburni delle situazioni geologiche e geologiche strutturali completamente diverse che condizionano fortemente lo sviluppo delle grotte e che ci devono servire in qualche maniera da guida per capire dove le possiamo andare a cercare che sviluppo possono avere quali possono essere le loro caratteristiche e poi ci sono ancora altre storie e grotte diverse qui ho messo questa slide dedicata a Walter Maucci che è uno di coloro che un triestino che negli anni 50 si rese conto di come il gruppo speleologico a cui apparteneva era diventato un po' troppo speleologico ed esplorativo e non curava più degli aspetti invece di ricerca che pure hanno un'importanza che possono essere estremamente utili alla speleologia e con una serie di osservazioni molto interessanti tiro fuori quella che lui chiamò l'erosione inversa o erosione antigravitativa cioè un'erosione che non procede dall'alto verso il basso ma dal basso verso l'alto e non perché è ipogenica come vi dicevo in precedenza ma per un altro motivo si tratta di quello che oggi chiamiamo paragenesi e condotte paragenetiche ad esempio qui siamo in una immagine delle grotte siciliane dell'amico Marco Vattano che cosa possiamo vedere ad esempio la presenza ve l'ho citato già prima di un qualcosa che si sviluppa sulla volta della cavità il canale di volta molto spesso quando all'interno delle grotte ritroviamo dei depositi come quelli che vediamo qui in primo piano portati dall'esterno da un corso d'acqua da un fiume questi depositi se raccolgono materiali che affiorano in superficie tipo argille materiali poco permeabili e li depositano qui chiaramente l'acqua che pure percola dall'alto non riesce più a svolgere la sua azione di dissoluzione perché trova una base impermeabile o poco permeabile a quel punto i depositi si vanno a sedimentare e l'unico spazio lasciato all'acqua per erodere la roccia e sviluppare la grotta sono le parti alte e la volta dove si può sviluppare un canale o si possono sviluppare delle forme si chiamano di anastomosi che tendono a erodere la porzione alta della cavità e a creare delle morfologie molto particolari che però derivano in questo caso dal fatto che la base il pavimento della grotta è occupato da depositi non solubili Ho una domanda per te Mario su Facebook da Claudio Marchitelli L'esplorazione delle grotte avviene nella zona vadosa e molte volte ci sentiamo dire che la grotta finisce o non ha una continuazione la mia domanda è teoricamente la maggior parte delle grotte portano alla zona freatica Beh in teoria sì nel senso che l'acqua un passaggio lo trova chi non riesce a trovare il passaggio siamo noi non ci passiamo per le dimensioni non ci passiamo perché spesso e volentieri troviamo delle frane ancora una volta quello che vi dicevo prima i breakdown deposits i depositi di crollo che ci impediscono il passaggio quante volte sembrava chiusa una grotta e poi con grande pazienza con un po' di incoscienza ficcandosi tra i massi di crollo un passaggio si è trovato proprio perché dobbiamo cercare auspicabilmente trovare in sicurezza quel passaggio che i crolli ci nascondono in qualche modo però è ovvio che la grotta continua non si può fermare lì poiché se noi siamo lì è perché siamo nell'ambiente evadoso e più in basso che può essere 5, 10, 100 metri più in basso ci sarà la situazione della attuale falda freatica questa immagine la faccio vedere spesso gli altamurani la conosceranno per i vari corsi perché mi piace il contrasto tra quello che è in primo piano questo terreno argilloso su cui scorre il corso d'acqua e la roccia carbonatica dove si apre la grotta è proprio il punto di contatto dove il fiume lascia la superficie si infila e crea il sistema carsico e poi da lì parte un'altra storia una storia che può poi finire in una sorgente in un lago nel mare a seconda delle situazioni in cui ci troviamo e questo contrasto questo contatto litologico ma soprattutto di permeabilità tra materiali argillosi e materiali solubili è fondamentale e ad esempio caratterizza questa zona che tanti di voi conoscono frequentano molto spesso gli alburni dove non è un caso che poi in anni in decenni passati anche gli amici dal nord venivano a cominciare dalla commissione Grotti Eugenio Boegan che negli anni 50 cominciò a fare importanti esplorazioni e spedizioni sui monti degli alburni ho messo qualche foto che raccogliemmo anni fa insieme a Umberto del Vecchio a Cicciolo Mastro e ad altri per una presentazione a un congresso internazionale di speleologia e anche a uno spelaio in cui facevamo un po' formando l'Alburni Exploration Team una storia di quelle che erano state le esplorazioni fino a quel momento e ovviamente sono fotografie anche molto belle da vedere perché ci ricordano anche le tecniche utilizzate una volta molto molto più faticose rispetto alle nostre ma gli alburni sono molto importanti innanzitutto perché per noi che viviamo in questa regione le grotte degli alburni sono molto diverse dalle nostre è il motivo essenzialmente geologico ma poi in Campania stesso il massiccio degli alburni e le sue grotte sono diverse da quelle degli altri massicci proprio per motivi geologici io non voglio ora entrare troppo nel dettaglio geologico perché magari potrei risultare pesante ad alcuni di voi però vi faccio vedere qualche qualche schema tratti in gran parte dal volume Grotte della Campania che qualche anno fa la Federazione Campana pubblicò un ottimo volume magari avessimo fatto un lavoro del genere come Federazione Speleologica Pugliese a mia memoria ne abbiamo invece prodotto uno di belle immagini certamente ma di molti minori contenuti rispetto a quello fatto dai campani e gli alburni sono non a caso uno dei luoghi principali della ricerca e dell'esplorazione speleologica in Italia meridionale proprio perché vi dicevo si differenziano anche dagli altri massicci campani innanzitutto c'è questa caratteristica che dopo circa 200 metri di profondità si arriva a strettoio sifoni non tutti i sistemi badate bene però in gran parte hanno questa caratteristica ma soprattutto qui moltissime delle cavità si aprono esattamente come vi facevo vedere in quella foto anche se la foto non riguardava gli alburni ma riguardava l'Albania al contatto tra i flish questi depositi in giallino arancione cioè depositi essenzialmente diciamo così impermeabili è il calcare questo è un esempio degli alburni in primo piano dove c'è questo prato siamo sul flish questo è calcare e non a caso al contatto si apre un accesso c'è un inghiottitoio il punto in cui l'acqua si infiltra e questo si spiega con il fatto che il massiccio degli alburni è stato in epoca miocenica quando questo flish si è depositato ricoperto dai flish poi dislocato da tutta una serie di faglie in maniera che hanno alzato alcune zone e ribassato altre il flish è stato eroso il calcare è tornato a essere messo a giorno e si sono aperte le cavità ha iniziato il processo carsico e poi via via che il flish veniva eroso per frane per erosione si abbassava la linea di contatto si aprivano aperture di grotte ad altezza diversa quella più antica era in alto la nuova era più in basso al nuovo punto di contatto tra flish e calcare ecco già avere qualche elemento come vedete geologico ma anche tettonico e morfologico forse ci fa capire un po' meglio quando andiamo sugli alburni le cose che vediamo sia in superficie che in grotta e riusciamo ad apprezzarle meglio anche percorrendo alcuni di questi sistemi come questo è il caso della grotta dei vitelli e vedete già in sezione gli approfondimenti netti dei pozzi e poi a un certo livello lo sviluppo di zone suborizzontali proprio perché evidentemente si incontrano all'interno della successione carbonatica dei livelli a minore permeabilità rispetto a quelli precedenti oppure perché c'è stato in questa fase uno stazionamento del livello di base che ha determinato lo sviluppo di gallerie a questa altezza e non un continuo approfondimento quando vediamo il rilievo in pianta ancora una volta spesso ritorna l'andamento lungo sistemi di frattura posizionati grosso modo perpendicolari gli uni agli altri fammi prendere un po' di fiato Antonio domande vai vai o anche in diretta se qualcuno vuole intervenire non mi dispiace affatto ho una domanda in cui mi chiedono quando usare il termine sinkhole e poi qual è il sinonimo italiano o più corretto molto spesso tutti quando chiamiamo sinkhole allora questa è una disquisizione terminologica che anche in ambito scientifico si tiene in particolare tra sinkhole e dolina sapete che il carso classico è quella regione a cavallo tra Italia e il territorio dell'ex Jugoslavia la Slovenia parte della Croazia ed è lì che è nata un po' la ricerca carsica a partire dall'ottocento e questo spiega perché tanti termini che ne utilizziamo in ambito carsico vengono dallo slavo dolina è uno di questi viene da dol che significa valle ponor ghiottitoio polie per indicare quelle valli a controllo tettono carsico e così via in Europa quindi dove si trova il carso classico abbiamo utilizzato essenzialmente il termine dolina per indicare queste depressioni sia da dissoluzione che da crollo il termine sinkhole è invece di maggior significato ingegneristico e nasce soprattutto negli Stati Uniti collegato alle fasi proprio di collasso essenzialmente di crollo catastrofico in realtà i due termini li possiamo considerare sinonimi si può parlare anche di sinkhole da dissoluzione e sinkhole da crollo in italiano il termine con cui lo tradurrei è sprofondamento voragine ma in ogni caso in base alla classifica più utilizzata in ambito scientifico bisogna sempre aggiungerci qualcos'altro per indicarne la formazione perché è molto diverso parlare di un sinkhole da dissoluzione legato solo alla solubilità della roccia in superficie e a un sinkhole da crollo che invece richiede la presenza di un vuoto sotterraneo che evolve verso l'alto per crolli successivi fino ad arrivare alla superficie e a provocare lavoraggine perfetto poi ho due domande collegate il sogno di tutti gli speleoggi è quello di trovare il geologo che ti dà il punto esatto dove scavare la prima te le faccio entrambi perché sono identiche quindi come leggere la prima è come leggere il territorio esterno per la ricerca di nuove cavità e invece l'altra è per la speleologia l'attività di scavo è importantissima per la scoperta di nuove grotte oltre allo scambio di aree con l'esterno come possiamo capire se un buco è promettente o meno allora per quanto riguarda la prima è un po' largo il discorso che facevamo per gli alburni dipende dal contesto geologico se mi trovo in una situazione in cui ho contrasto di litologia quella solubile e materiale non insolubile certamente al contatto qualcosa avviene allora seguire queste zone di contatto seguire la rete idrografica che si sviluppa in superficie sui materiali non solubili è il primo elemento perché ci porta in corrispondenza dei luoghi dove l'acqua si infiltra e dove è più probabile trovare delle cavità poi c'è la storia dell'inghiottitoio di masteria rotolo per chi non lo sapesse quello era un piccolo inghiottitoio che in tanti avrebbero escluso dal catasto fu messo a catasto nel 1969 da un professore professor Giovanni Longo ma non era altro che una piccola depressione che si approfondiva poco più di due metri impraticabile dall'uomo ma capì all'epoca questo Longo che quello era un punto importante e questa stessa comprensione questa stessa idea l'ha avuta Pierluigi Rotolo il proprietario che poi ha consentito lo scavo in quella zona e questo ci dimostra che quando troviamo una forma del paesaggio carsico anche poco sviluppata non una vera e propria grotta che però ci dà dei segnali delle indicazioni beh quello può essere un luogo interessante da approfondire e importante in altre situazioni è ovvio l'aria l'aria è un segnale importante però allo stesso tempo può anche ingannarci spesso e volentieri se ci troviamo in una situazione in cui e c'è capitato proprio ad Altamura siamo in una zona di crollo l'aria che circola non è detto che porti a spazi via via più profondi alla continuazione della grotta può essere legata a una circolazione all'interno dei depositi di crollo ci sembra che ci sia aria che circola ma in realtà poi è sempre lì l'ambiente ormai chiuso e occupato dai depositi di crollo anche lì ci vuole pazienza perseveranza e il fattore C che non guasta mai quello manco a dirlo è fondamentale Mario anche io un'altra domanda da posto no 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 diciamo diciamo lo mettiamo su muto diciamo che ne avevo tante però man mano che facevi le tue spiegazioni le hai quasi esaudite quindi non è più no no un'altra cioè no e poi tantissime sulle concrezioni ma beh però come hai detto prima magari le farò a Paolo Forti la prossima volta allora quest'altra domanda ritorniamo alla formula madre del carsismo cioè abbiamo visto che la CO2 cioè l'anese carbonica ha un ruolo fondamentale nel carsismo no però se dovessimo togliere una molecola di ossigeno all'anese carbonica quindi diventare monossido di carbonio avrebbe la stessa importanza o no questo è un dubbio che ce l'ho da sempre ma in realtà non è solo questo chiaramente come spesso quando noi proviamo a spiegare dei processi naturali tendiamo a semplificare un po' le cose la stessa formula che vi ho detto non è una formula che agisce così sic sempliciter e basta dipende da una serie di fattori dipende dalla temperatura dipende dalla pressione della CO2 dipende da reazioni chimiche che si possono verificare quindi in pratica quello che avviene è che quella è la formula di base ma poi va riguardata interpretata inserita in base alle condizioni specifiche anche alla quantità di pioggia non è un caso che in ambiente tropicale abbiamo lo sviluppo estremo delle forme carsiche a causa della notevole quantità di acqua che lì arriva rispetto a zone molto meno interessate dallo sviluppo di piogge di quel tipo per cui è riduttivo è chiaro è il nostro primo riferimento quella quell'equazione ma non è il solo però anche su questo vi rimanderei a venerdì prossimo col chimico Paolo Forti che certamente è molto più abile e capace di me su questo punto ce la farai Marco? Marco ce la farai Marco ad aspettare fino al prossimo non lo so se è tornato la settimana ce la fa non gli scappa c'è una domanda di fedele Mario dici fedele? allora Mario io questa è una domanda che sfonda proprio ogni logica però ce l'ho qua in pratica riferendomi proprio alle grotte ipogenetiche e anche all'ipercartismo dovuto alla acqua di miscela voglio dire in Puglia se ne sviluppa tanto è possibile iniziare a pensare di calcolare la velocità con cui queste grotte si sono formate nel senso è vero che in termini geologici la vita dell'uomo è veramente insignificante però capire con che velocità insomma una grotta marina può continuare ad espandersi o meno quindi il rischio di crollo che poi ne deriverebbe da questo fenomeno di ipercartismo e in più soprattutto per quanto riguarda le grotte ipogenetiche nel momento in cui noi andiamo a forzare un ingresso e quindi a modificare lo scambio con l'esterno io non la vedo mai una cosa eticamente corretta ma quanto andiamo a modificare l'azione di soluzione delle acque di risalita insomma del il fenomeno classico di soluzione che viene dal basso andando ad aprire un accesso all'esterno ok fedele grazie di queste domande e devo dire l'ho noto pure con piacere che parte delle domande in realtà poi si collegano a qualche altra slide che avevo messo quindi alla fine per fortuna sono riuscito un pochino a non dico a prevedere ma a immaginare gli argomenti di cui avremmo parlato quindi ti chiedo solo un attimo di pazienza perché ora ci arrivo con le prossime con le prossime slide e parleremo anche delle grotte ipogeniche ok questo anche perché per rispondere ad altre domande mi chiedevano tra i vari messaggi che mi ha passato Antonio in giornata la distinzione tra i vari settori carsici della nostra regione e se questi devono essere considerati assestanti oppure collegati e questa diciamo è questa domanda si riallaccia al discorso a cui accennavo in precedenza paleogeografico paleogeografico cosa si intende con questo termine paleogeografia è la ricostruzione di com'era la geografia in epoche passate noi la Puglia la conosciamo così con questo andamento con questo è il tacco dello stivale è il luogo dove in tanti vengono a trascorrere le loro vacanze grazie alle bellezze delle nostre coste e non solo e vi individuiamo tre areali il gargano le murge e il salento che però hanno avuto un'evoluzione ben diversa tra di loro innanzitutto sono diversi geologicamente perché è vero che il substrato cretaceo è lo stesso quello che costituisce le murge poi anche il salento e il gargano ma ad esempio nel promontorio del gargano noi abbiamo una successione geologica ben più continua che mette in affioramento anche rocce giurassiche molto più antiche quindi del cretaceo che invece nelle zone murgiane e salentine non troviamo e poi proprio ricostruendo la paleogeografia vale a dire l'evoluzione nel tempo di questi luoghi alcune zone erano emerse cioè come delle isole in periodi in cui altre continuavano a stare sott'acqua stando sott'acqua ricevevano deposizione e questo spiega perché nella zona salentina abbiamo tutta una serie di formazioni geologiche sempre di natura carbonatica ma che non sono il calcare cretaceo sono più recenti sono per intenderci anche quelle che troviamo quando ci infiliamo a Vorabbosco i depositi miocenici della pietra leccese le calcareniti di Andrano le calcareniti di gravina sovrastanti mentre nelle murge le murge erano emerse e troviamo soltanto le calcareniti di gravina localmente e lungo la costa ci sono quindi delle differenze sostanziali anche se questa è una zona che complessivamente è chiamata avampaese apulo perché indica quella fascia non deformata dalla orogenesi che ha prodotto gli appennini in ogni caso all'interno dell'avampaese abbiamo differenze geologiche differenze paleogeografiche e di conseguenza differenze nello sviluppo dei reticoli carsici questo è un elemento fondamentale da tenere a mente per capire perché ci sono differenze tra i vari i vari settori ci ho detto però va anche ricordato che le nostre conoscenze sono abbastanza limitate come vi dicevo prima del progetto chiamiamolo grottaroto lavoro a bosco ad esempio studi biospeleologici in falda non erano stati mai fatti se non con dei prelievi attraverso pozzi non con l'accesso diretto noi abbiamo ritrovato a grave rotolo delle specie di gamberetti per intenderci tipiche del salento che sulle murge non erano state rinvenute e che ovviamente danno un'indicazione anche quella del fatto che c'era una connessione tra la falda carsica presente al di sotto del territorio che spiega la presenza delle stesse specie su un areale più ampio ma che dal punto di vista proprio della caratterizzazione speleologica è più difficile da vedere perché questi sono ambienti in cui le grotte hanno uno sviluppo una situazione molto diversa ho messo questa immagine tratta da un lavoro di fabio stock rappresenta in italia le varie province dell'astigo fauna cioè degli ambienti delle specie scusate che ritroviamo in acqua dolce e come vedete la Puglia con l'esclusione delle due isole che abbastanza logicamente costituiscono province assestanti l'unica regione amministrativa che costituisce anche una provincia biogeografica da questo punto di vista è proprio quella pugliese che ha di conseguenza un'importanza notevole dal punto di vista biospeleologico questo è un altro settore dove sarebbe necessaria una grande spinta di ricerca e di attività perché a parte pochi esperti presenti in regione in primis Totò Inguscio e Emanuela Rossi sarebbe necessario approfondire molto gli studi da questo punto di vista un'altra cosa di cui vi volevo accennare che mi interessa parecchio e che mi ha incuriosito da parecchi anni è ad esempio il territorio di Ostuni questa è una carta geomorfologica prodotta per un lavoro di qualche anno fa siamo nella zona di Risiedi poco a nord di Ostuni Ostuni praticamente sta da queste parti in basso a destra dello schema qui c'è il santuario di Santo Ronzo per chi conosce la zona e questa stella qui indica la grotta di Santa Maria di Agnano quella dove l'archeologo Donato Coppola ha trovato i resti di due sepolture di Età Mosferiana quest'altra qui è la grotta di Cava Zaccaria nota a penso tutti voi se facciamo una sezione dal promontorio di Risiedi verso il mare verso la costa Adriatica troviamo due calcari diversi il calcare cretaceo classico di Altamura e il cosiddetto calcare di Ostuni è una formazione che si chiama proprio così in quanto ad Ostuni affiora nella maniera più evidente e netta quindi è stata formalizzata lì questa litologia dal punto di vista formazionale qui c'è Santa Maria di Agnano qui c'è Grotta Zaccaria ma un po' più spostata lateralmente ve la farò vedere dopo abbiamo anche Grotta Sant'Angelo molte delle cavità del territorio di Ostuni si aprono in corrispondenza del passaggio litologico sono due calcari sono due calcari del cretaceo in particolare nella parte alta di Altamura e per Ostuni del cretaceo superiore ma presentano differenze dal punto di vista della permeabilità c'è una differenza di permeabilità quello di Ostuni è più poroso più ricco in vuoti rispetto a quello di Altamura su cui poggia non so se riuscite a vedere la differenza tra le due litologie sia in questa immagine che in quest'altra in basso è la Grotta Santa Maria di Agnano che di cui qui vedete l'ingresso è esattamente sviluppata al contatto il pavimento nel calcareo di Altamura la parte alta nel calcareo di Ostuni e tra i due in corrispondenza di una linea tettonica c'è poi la zona di brecce all'interno della quale infilandosi in uno stretto cunicolo che poi è questo qui Coppola trovò le sepolture vi parlavo di Sant'Angelo e qui veniamo a un qualcosa che è ancora in corso con io con Ilenia D'Angeli e con altri colleghi vale a dire lo studio della Grotta Sant'Angelo come una grotta definita dagli autori americani Mirroy in particolare Flunk Margin Caves le grotte di miscela cioè formate in corrispondenza della zona di interfaccia tra acqua dolce e acqua salata sappiamo che l'acqua dolce è meno densa dell'acqua salata e crea quindi come una specie di lente quella che vedete qui con l'obliquo le linee oblique che galleggia al di sopra dell'acqua salata e che raggiunge ovviamente il mare in corrispondenza della zona di contatto tra mare e isola o costa possiamo immaginare una sezione attraverso la Puglia col mare da entrambi i lati ebbene queste grotte di miscela si formano proprio in questa zona perché quando si mescolano acque diverse in questo caso acqua dolce e acqua salata la miscela che ne deriva è molto aggressiva rispetto alla solubilità della roccia riesce ad attaccarla meglio e crea delle cavità che si formano in questa zona e che hanno delle morfologie particolari quando però il livello del mare si abbassa per qualche motivo tettonico eostatico glaceo eostatico e così via queste grotte di miscela costiere rimangono isolate più in alto rispetto all'attuale livello del mare ma sono un segnale importante perché scusate perché indicano un livello passato del mare da questo punto di vista danno moltissime informazioni e anche qua ricordiamo l'amico Giovanni che tanto ha dato e che secondo me poco è stato veramente compreso dal mondo speleologico per le intuizioni che ha avuto e per le cose che ci ha lasciato scritto si formano degli ambienti in cui si vede come non è solo il classico meccanismo dell'acqua che discioglie la grotta che discioglie la roccia a formare la grotta ma anche l'aria l'aria di condensazione che ci determina la formazione di ad esempio cupole di ambienti in volta che derivano proprio dal fatto che ci trovavamo in corrispondenza di linee di costa in cui la grotta era parzialmente allagata la superficie la parte alta della cavità con il vapore acqua e con l'aria di condensazione si concentrava in alcuni punti cominciava a discioglierli creando delle morfologie a cupola dei notch tipo dei solchi laterali molto caratteristici che ritroviamo anche nella grotta Sant'Angelo in particolare negli ambienti più bassi della grotta stessa ma ci sono varie situazioni varie morfologie che vedete in queste immagini che ci testimoniano la presenza di tutta una serie di morfologie tipiche delle grotte di miscela e in particolare abbiamo una prevalenza di passaggi suborizzontali mancano i sedimenti i depositi la evidenza di un fiume dei famosi depositi legati al fiume non ci sono scallops gli amici del CARS ricorderanno qualche giorno fa sulla nostra chat qualche discussione sugli scallops sono forme legate al passaggio in pressione dell'acqua non vi sono ingrotte di questo tipo e si formano solchi e morfologie tipo Swiss cheese tipo a formaggio svizzero con tutta una serie di bucarelli distribuiti all'interno del massiccio stesso così come Sant'Angelo altre situazioni studiate in Italia anche meridionale in questo caso siamo vicino Siracusa la grotta Pellegrino ecco vedete la classica situazione di una volta anastomosizzata e poi e arrivo a rispondere a Fedele le grotte ipogeniche che hanno importanza notevole in Italia l'Italia è uno dei paesi che ne presenta il maggior numero sono stati oggetto di numerose pubblicazioni negli ultimi anni da parte di tutti gli speleoscienziati italiani anche qui con Io che spesso ha fatto da collettore ai nostri lavori lui ma mi piace ricordare la pugliese Ilenia D'Angeli per quanto ha studiato a Bologna che si è data molto da fare con la sua tesi di dottorato su questi argomenti e si tratta di ambienti particolari in cui dicevamo l'acqua risale dal basso che spesso non corrisponde a situazioni carsiche in superficie e si creano morfologie tipiche anche con depositi particolari con le cosiddette sacche di sostituzione in cui la calcite viene sostituita da depositi di gesso legati alla presenza dello zolfo nelle acque che risalgono e da noi ci sono come magnifico esempio di questo tipo di grotte quelle di Santa Cesaria Terme su cui con Ilenia da tanto tempo stiamo lavorando raccogliendo una grande quantità di dati in parte già pubblicati ecco tornando a una delle domande che mi avete fatto prima questo è certamente un altro progetto di ricerca che però si è sviluppato grazie alla tesi di dottorato di Ilenia e che ora stiamo continuando con un po' di fatica a portare avanti per interesse scientifico ma senza finanziamenti cioè basandoci sulle nostre forze e su un po' di disponibilità economica che abbiamo messo da parte nel corso degli anni ci sono queste quattro grotte tre delle quali all'interno dell'ambiente termale e una invece un po' più esterna che mostrano delle caratteristiche particolari a cominciare dai pennacchi bianchi che si formano in particolari condizioni di corrente i filamenti presenti in grotta la presenza di antichi speleotemi che attualmente sono sott'acqua queste sono le tasche a cui mi riferivo prima dove la calcite viene sostituita dai depositi di gesso e si formano anche concrezioni molto particolari un altro aspetto che abbiamo analizzato è quello estremamente importante che è sempre più importante in ambito scientifico microbiologico perché questi sono ambienti estremi molto particolari per la vita degli animali dei batteri e il loro studio quindi è di grande interesse anche per tutta quella parte delle discipline scientifiche che guarda alla possibilità di ricerca di vita in ambienti extraterrestri o molto particolari molto estremi e queste sono alcune immagini delle coperture di depositi di zolfo all'interno delle grotte mi chiedeva fedele apro un passaggio all'interno di una grotta ipogenica è un problema cosa faccio lo danneggio il sistema ma ovviamente tutto va sempre commisurato alle dimensioni del sistema di cui stiamo parlando di cui stiamo ragionando perché aprire un passaggio un'apertura verso l'esterno generalmente non riesce a determinare variazioni così forti nella circolazione da modificare in maniera significativa il sistema se questo è steso ovviamente va tutto considerato io più della preoccupazione del modificare la circolazione d'aria mi preoccuperei di un altro aspetto di cui ragionavamo all'inizio fedele forse quando eravamo in pochi nella chat vale a dire il nostro movimento in grotta e i danni che possiamo noi creare ma questo vale non solo per quelli ipogetiche vale per tutte cioè dobbiamo avere noi l'etica di provare a limitare al massimo i nostri passaggi soprattutto in situazioni delicate percorrere sempre gli stessi ambienti non spostarci da quei percorsi e evitare di rompere dove non è necessario anche lo sottolineo per fini scientifici per troppi anni si è con la scusa dell'essere scienziato dell'essere ricercatore c'è stata gente che ha fatto danno in grotta è possibile studiare analizzare fare ricerca anche di alto livello senza rompere niente semplicemente osservando e campionando quello che troviamo già rotto in grotta non c'è motivo non c'è necessità di rompere altro altri stalagmiti altri speleotemi cominciamo a guardare quelli che sono per terra già rotti probabilmente troviamo lì qualcosa che può servire al nostro studio alla nostra ricerca è una questione di rispetto verso l'ambiente è un qualche cosa che è un'etica che o abbiamo o è difficile acquisire ma possiamo acquisirla se ci troviamo a frequentare un mondo in cui l'etica rappresenta uno dei primi concetti basilari uno dei punti chiave che stanno alla base della nostra formazione del nostro modo di essere del nostro andare in grotta ecco se riusciamo a spiegare dall'inizio dalle prime grotte a chiunque si avvicini a questo mondo l'importanza di comportarsi in un certo modo certamente miglioreremo Mario ho proprio una domanda su questo chica e quale sarebbe il metodo migliore per insegnare questa etica perché hai detto bene insegnare durante il corso il primo livello di corso ma durante ad esempio il primo corso di primo livello di sperologia sono così tante le informazioni perché si è neofiti sono così migliaia di informazioni che vengono sparate verso un corsista che molte vengono perse prende quello che più gli interessa può essere la parte tecnica può essere la meraviglia della grotta però credo che chiedo a te quale potrebbe essere il metodo migliore perché anche io ne parlava la settimana scorsa quello della tutela e del rispetto stesso perché a volte si vedono gli speleologi che una volta che si entra in grotta si è proprietari della grotta stessa andare a visitare quel cunicolo dove non porta da nessuna parte perché ormai è stato chiuso ed è sicuro però solo per la gioia di andare quindi ho detto benissimo per rovinare spogli di temi senza alcun motivo perché noi non siamo nulla se facciamo un paragone alla nostra età con l'età della grotta quindi siamo davvero nemmeno un moscerino vedi Antonio è vero quello che dici nel senso che quando si fa un corso di primo livello tra l'altro la cosa che più ci prende è capire se veramente questi attrezzi ci tengono su se non ci stanno raccontando palle abbiamo paura a lasciarci andare sull'imbrago dobbiamo fidarci degli istruttori per cui è difficile recepire effettivamente queste cose secondo me l'unica risposta che dobbiamo continuare a dare è il nostro comportamento nel senso che se vedono che tu istruttore fai danno te ne freghi dell'ambiente sporchi qua ti aggrappi là senza pensare che quello speleotema è bianco candido e tu lo stai sporcando se vedono te comportarsi così faranno lo stesso se riusciamo col nostro esempio oltre che a spiegare perché poi le parole fino a un certo punto valgono spesso e volentieri è molto più importante il nostro comportamento ed è lì che secondo me possiamo formare o accrescere quella etica quel rispetto verso l'ambiente grotta quella comprensione del fatto che noi siamo come spesso diciamo di passaggio ma che ci saranno altre generazioni di speleo dopo di noi e in questo non può che venirmi in mente la malunga e la bellezza di quella cavità che noi del CARS conosciamo bene la bellezza di quei luoghi ma più che la bellezza l'unicità ecco quello è un posto unico allora perché fare delle scelte delle azioni che rischiano fortemente di danneggiare per sempre un qualcosa di unico che non ad Altamura non in Italia ma nel mondo non c'è è solo lì allora questo veramente è un atteggiamento che si può definire in tante maniere possiamo provare a comprenderlo da vari aspetti ma assolutamente non è etico secondo me quindi una volta entrato in grotta non si deve distruggere niente chi sei? sei un futuro speleologo Pierpaolo figlio di Nicola Nicola accendi ah vai ecco è Pierpaolo ok no non si deve distruggere niente sai perché perché così come centriamo noi come ci entri tu se non ci sei ancora entrato come centrerai tu ce ne saranno tanti altri dopo di noi che giustamente vogliono vedere la stessa cosa ma questo non vale soltanto per la grotta stai attento vale anche nell'ambiente naturale non dobbiamo sporcare fare danni distruggere solo così per divertimento perché dobbiamo in qualche maniera imparare ad amare la natura e amare tu puoi amare solo se rispetti se la salvaguardi se la proteggi quindi se vedi qualche tuo compagno qualche tuo amico che fa azioni ad esempio butta la plastica la carta per strada in campagna spiegaglielo raccontagli che non lo deve fare perché dobbiamo salvaguardare e proteggere quell'ambiente e la grotta è parte di quell'ambiente ok grazie per Paolo prego allora che ore sono le 10 meno 10 voi come siete messi io poi hai visto ti ho detto che ero stanco però poi quando parlate ma tu sei professore nel sangue quindi tu hai piacere a parlare magari appunto si parla con piacere delle cose che ti piacciono ecco volevo solo ricordare che siamo anche su Facebook e stiamo registrando quindi possiamo rivedere il video quando vogliamo Maglio toglie le mani dal naso il bicchiere perché verrai tu bravo Maglio togli il bicchiere dal naso togli il bicchiere dal naso quindi volevo ricordare venerdì prossimo ci sarai nuovamente tu che farai anche da intervistatore mediatore io sarò solo quello che punzecchia in qualche maniera Paolo Forti non che ne abbia bisogno Paolo perché lì basta che di parte non si ferma più per cui molto più di me parleremo anche diremo anche qualcosina sull'uomo si esprimeremo i nostri ma guarda credo proprio di si per chi di voi ha letto l'intervista Paolo Forti su Scintilena insomma Paolo è uno dei pochi mi ci metto anch'io tra quei pochi che si è posto da sempre su questa questione in maniera coerente cioè portando avanti sempre la stessa idea quindi credo che anche venerdì non farà altro che confermare quelle che sono le sue profonde convenzioni su questa questione infatti l'oggetto quindi Paolo sta alla difesa e salvaguarda delle grotte quindi venerdì prossimo invece il venerdì 22 grazie anche a Maglio Porcelli al suo intervento avremo l'autore registra sicuramente molti di voi lo conoscono di molti documentari televisivi Tullio Bernabei e poi venerdì 29 invece abbiamo il geologo e il socio del CARS parale di geologia e geofisica Pietro Pietre io non so a Vito se ci sono domande su Facebook perché non sto seguendo su Facebook quindi se potresti gentilmente contro Vito Borneo parlo se è ancora vivo potresti controllare se ci fossero domande su Facebook poi sta a te Mario se tu molte domande di Marco verranno risposte venerdì quindi Marco dovrà aspettare controllo mi sono dimenticato qualcosa adesso io quelle mi sa che mi hai girato ah una di Samantha ora te la faccio Samantha ho fatto il tuo nome perché me l'hai mandata tu e te la leggo ci sono grotte suborizzontali che potrebbero essere state usate dall'uomo nella preistoria mi chiede come è possibile distinguere le modificazioni umane dalle forme naturali beh l'uomo da sempre ha usato le grotte la grotta è stata una delle case primi luoghi di protezione dell'uomo per cui per ripararsi dall'esterno dagli agenti atmosferici dagli animali la grotta era il luogo in cui viveva e smoggeva tutta una serie di attività quando queste attività sono state costanti in genere troviamo alcuni segnali alcuni elementi non sempre li riconosciamo perché a volte questi segnali sono solo presenti nei sedimenti e questo ci porta di nuovo al discorso del rispetto cosa intendo dire in tante grotte anche presi dalla passione dall'interesse molti nostri predecessori si sono messi a fare degli scavi artigianali magari vedendo dei cocci dei resti dei frammenti e non hanno fatto altro che danneggiare in maniera allora irrecuperabile quei depositi perché uno scavo del genere lo può fare soltanto l'archeologo che ha l'accortezza e la capacità di leggere ancora una volta vedete torniamo a leggere le grotte a leggere strato dopo strato e a collegare i vari ritrovamenti in base agli strati successivi per rispondere a Samantha non sempre riusciamo a vederle chiaramente queste impronte lasciate dall'uomo a volte ci sono nette e le riconosciamo altre volte le possiamo immaginare ma in ogni caso lì la cosa da fare è soltanto una coinvolgere degli esperti vi assicuro ora parla il ricercatore non lo speleologo che una persona interessata a un argomento del genere a cui venga detto noi siamo speleo ti portiamo in grotta ti facciamo arrivare in quel posto te lo facciamo studiare e lo fate solo felice e questa cosa che una volta era forse vissuta con una grande subitanza psicologica da parte degli speleologi nel senso che arrivava il professore e pareva che arrivasse chissà chi come a volte ancora oggi mi sembra di vedere anche in luoghi a noi vicini adesso invece è molto cambiata ci sono tante persone estremamente interessate e umili nel loro approccio che mettono allo stesso livello la ricerca e la esplorazione speleologica e per fortuna in Italia ce ne sono parecchie nei vari settori non parlo non mi riferisco solo a quello geologico che è quello che meglio conosco ma anche nella biologia nell'archeologia e in tante altre discipline quindi se abbiamo un'intuizione o dei dubbi cerchiamo la persona giusta cerchiamo l'esperto da coinvolgere e probabilmente può nascere qualcosa di interessante da lui se posso dire qualcosa sulla salvaguardia tutela io vivo a 50 metri da un castrum romano e quindi da Matilo e quindi ci sarebbe tantissimo in Olanda parlo e quindi ci sarebbe tantissimo da scavare da da scoprire cosa che hanno già fatto in passato invece gli archeologi olandesi hanno deciso di lasciare buona parte del castrum quindi di questo forte sul confine sull'imes romano non scavato intatto cioè lasciarlo ai posteri questa zona non verrà scavata al momento perché sicuramente in futuro ci saranno metodologie migliori quindi non andremo a rovinare qualcosa che in futuro sarà possibile scoprire ma è quasi un bellissimo gesto e segno non c'è bisogno e questo potrebbe anche molto collegarsi anche all'uomo di Altamura con la nostra diatriba di capire non c'è questa fretta questa necessità di scoprire tutto oggi immediatamente quello che c'è sicuramente in futuro avremo delle tecnologie delle tecnologie migliori delle nostre in cui non ci sarà nemmeno bisogno di scavare di lasciare così come è tuttora ma è vero perché se ci pensate abbiamo età molto differenziate in questa in questa chat però se pensiamo a 15 anni fa probabilmente molte delle cose che oggi utilizziamo quotidianamente non le immaginavamo la tecnologia va avanti e va avanti con un passo fortissimo velocissimo allora non ha proprio senso provare a distruggere qualcosa o a danneggiarla anche in buona fede io non dico che chi ha un progetto in quella direzione sia un cattivo che dobbiamo combattere ma bisogna riuscire a convincere tutti quanti che con l'avanzare della tecnologia possiamo raggiungere delle nuove tecniche delle nuove metodologie che oggi forse cominciamo a immaginare o che magari non immaginiamo proprio nell'arco di non tanti anni lo faranno altri cosa importa l'importante è che però quel bene soprattutto lo ripeto quando è unico venga conservato venga preservato allora questo è importante e questo ci fa capire anche la grandezza delle persone che sono disposte a fare un passo indietro a fare una dieci pubblicazioni in meno a essere forse un po' di meno in televisione sui giornali però a lasciare un segno positivo agli altri alla comunità e in particolare a quella speleologica nel caso nostro che parliamo di grotto tanto poi c'è il covid-19 che ci ci dà tutto il tempo che voglia quindi non abbiamo nessuna fretta quando avremo il via libera tutti alla malunga tutti a questo tempo giuditta ti ringrazia grazie grazie Mario molto interessante il tuo intervento l'attenzione per l'etica speleologica ti rende onore come al mondo speleologico che conosco grazie a te giuditta che poi Mario paradossalmente proprio noi del Carse di Altamura siamo stati un po' accutati di 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 essere un po' non altruisti anzi di essere egoistici nel senso che l'uomo di Altamura lo vorremmo solo vedere in uno ecco perché siamo in lotta siamo contrari all'estrazione dell'uomo di Altamura mentre noi reputiamo che sia proprio il contrario cioè noi proprio per l'altruismo e per poter permettere di farlo conoscere a tutti reputiamo giusto che non venga poi uscito non so se siete d'accordo su questo punto di vista ma io voglio semplicemente ricordare soprattutto ai non altamurani presenti stasera che tutte le volte che noi del Carse siamo entrati nella grotta di Lama Lunga lo abbiamo fatto su richiesta e con il permesso degli enti che ci autorizzavano in particolare della sovrintendenza questo a significare che la grotta di Lama Lunga non è assolutamente del Carse e non è che quelli del Carse ci vanno e ci entrano quando vogliono per fare i fatti loro a me piacerebbe molto fare un progetto di ricerca su Lama Lunga finora non mi è stato possibile e penso di poter dare un contributo in discipline che attualmente non sono assolutamente trattate dall'unico gruppo di ricerca che ci sta lavorando quindi sia chiaro che il Carse non vede Lama Lunga come la sua grotta il Carse nel corso degli anni da sempre dall'inizio della scoperta e in questo voglio ricordare certamente Giovanni Ragone che è stato anche un po' il nostro spot per tanto tempo per come ci martellava quando dovevamo entrare e dobbiamo entrare in quella grotta è stata l'associazione che ha protetto Lama Lunga e il reperto che lei contiene quindi e continueremo a farlo condivido non so se ci sono altre domande perché dopo due ore hai avuto una giornata intensa con vari meeting se non ci fossero altre domande noi ti lasceremo libero di tornare a casa da un'altra stanza cambiare stanza non ho niente su facebook quindi va benissimo Mario non so che dirti ringraziarti al minimo poi ti mando lì ti mandami lì no ce l'ho già ti ho già fatto il prepagamento che ti ho fatto ieri la seconda parte il repayment te lo saldo ti ringrazio davvero a nome del CARS Calipeda tutti i fortunati che li stanno ascoltando perché devo essere sincero ho assistito meglio forse il vantaggio del covid o meglio hanno questa lezione di geologia ora non durante le lezioni del corso distrazioni devo dire questi sono uno dei vantaggi perché dici l'ultimo banco lo sappiamo no perché guarda le cose io ma mai fatto Giovanni diamo appuntamento quindi a venerdì prossimo con Mario sì diamo appuntamento a venerdì prossimo ringraziamo Mario è stato gentilissimo come sempre è disponibile sempre al CARS grazie Mario io ringrazio voi ringrazio i presenti soprattutto consentitemi non del CARS che sono nostri ospiti comunque lo sapete che sono sempre disponibile in regione soprattutto quando c'è volontà necessità di fare chiacchierate del genere in genere le facciamo in maniera frontale ed è sempre più bello con magari una bevuta successiva in questa fase siamo costretti a casa però anche così va bene sì sì provvediamo lo stesso Mario è finito fedele provvediamo provvediamo devo andare a fare rifiuti ci rivedremo presto a un raduno Mario ok un abbraccio a tutti ciao Mario ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti saluti alla Campania a la tua Mario ciao buonanotte ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao 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 ragazzi Sibbana ciao ciao ma ci dici non hai la pagina vuoi donare Sibbana non ci posso credere Sibbana grazie